Bentornati amici e amiche all'appuntamento col meteo per questo sabato 13 maggio dando uno sguardo alle immagini dal satellite notiamo la presenza di una vasta nuvolosità sul centro sud questa causata da un flusso più caldo e umido proveniente dal nordafrica nubi anche al nord ma queste dovute a un flusso più instabile nordafrantico e abbastanza fresco alle alte quote vediamo il tempo nel dettaglio in abruzzo al mattino tanto sole su gran parte della regione qualche innocuo addensamento sull'appennino ancora un po di sabbia nei cieli ma non giungerà al suolo dato che non ci saranno fenomeni annessi alla nubolasità nel pomeriggio temperature massime che saliranno sin verso i 25 gradi di pescara 21 22 gradi altrove quindi un clima abbastanza mite a tratti anche caldo grazie al soleggiamento diffuso e all'aria più calda proveniente da sud nel corso della sera nulla da segnalare cieli sereni o poco nuvolosi innocui e densamenti sull'appennino clima abbastanza mite con valori tra i 14 e i 16 17 gradi con questo è tutto grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento col meteo grazie a tutti grazie a tutti